Facciamo luce sul morbo di Alzheimer. Il morbo di Alzheimer è un tipo di demenza che provoca problemi di memoria, di pensiero e di comportamento. Generalmente i suoi sintomi si sviluppano lentamente e peggiorano con il passare del tempo, tanto da diventare talmente gravi da interferire con le attività quotidiane. Il 21 settembre facciamo luce e coloriamo il nostro municipio di Viola come segno di sostegno, sensibilizzazione e speranza verso il continuo progresso della ricerca che tanto ha fatto negli ultimi due decenni. Facciamo luce sull'Alzheimer.